E se ti dicessi che da oggi VH1 ha una marcia in più Rock and roll Super live Da lunedì a venerdì dalle 14 e 10 Su VH1, canale 167 del digitale terrestre Si cambia per essere pronte in una sola passata Si cambia per sentire subito la differenza Si cambia per dare il meglio alle nuove generazioni Si cambia la lama e si tiene il manico Si cambia per noi, si cambia per l'ambiente Venus, basta un gesto Mini, mini, mini Magno mini I classici magnum che ami in formato mini Magnum mini, perfetti in ogni momento Ora anche nel gusto Intense Coffee Manda un bacio Grande Ti ricordi i suoi primi compleanni? La meraviglia nei suoi occhi quando scattava i regali E quelle candeline che non si spegnevano mai La prima bicicletta con le rotelle E quanto si sentiva grande il giorno in cui le ha tolte Le risate Le corse Le abbracce Tutti questi piccoli momenti Per chi ha una malattia genetica rara Come Maddi Lori Mavi E Fabio Sono possibili anche grazie a te Se scegli di sostenere la ricerca Teleton Per dare risposte e terapie a molte famiglie Con una donazione mensile regolare Puoi davvero fare la differenza Aiutandoli a crescere Una candelina dopo l'altra Dona anche tu Ora 10 euro al mese su Teleton.it Facciamoli diventare grandi Borse e occhiaie Nuove maschere occhi Garnier Con la tecnologia effetto ghiaccio CrioGelly Fino a meno 7 gradi Di addio alle occhiaie Nuova maschere a CrioGelly Da Garnier Il momento più difficile per una famiglia Con un bambino che è affetto Dalla malattia genetica rara È scoprire che quel bambino Non può fare le solite cose Che fanno gli altri bambini Clara ha un ritardo motorio Linguistico e cognitivo Andrà a perdere tutte le sue Facoltà cognitive Anche primarie E chiaramente le prospettive di vita Sono brevi Chiama adesso L'800 93 15 15 E sostieni la ricerca Teleton Con 10 euro al mese Sostengo con la donazione regolare Teleton Perché dopo aver visto la sofferenza A cui sono sottoposti questi bambini Credo che non si possa rimanere indifferenti Le malattie genetiche rare Sono uno tsunami Arianna non riesce a stare seduta da sola Ha difficoltà a tenere il capo I suoi gesti spesso non sono intenzionali La pecora come morbida Ci regala sorrisi poche volte l'anno Chiama l'800 93 15 15 E diventa anche tu donatore regolare Teleton Con la donazione che faccio regolarmente a Teleton Vorrei donare loro un futuro Per noi non c'è altra speranza che quella della ricerca La ricerca è fondamentale È proiezione verso il futuro È conquista Senza ricerca non abbiamo un futuro Chiama ora l'800 93 15 E sostieni la ricerca per il futuro di tutti Gli amori di una stagione Le amicizie di una vacanza Le avventure in riva al mare Sono durate una sola stagione Ma sono rimasti per sempre nel tuo cuore Come le grandi hit di quell'estate Che ti aspettano su VH1 Summer Rewind Sabato e domenica dalle 17 Solo su VH1 Sul canale 167 Alla intrusione Alla intrusione Alla intrusione